Welcome to Mirror TV, ragazzi, sore e compagnia di... E siamo qui per parlare dell'ultima puntata di Dynamite Che è stato davvero una dinamite assurda questo episodio Davvero, da inizio alla fine è stato come vedere un pay-per-view fatto a puntata Io sono rimasto davvero molto scioccato, sverate volte, durante questo episodio Peo, considerazioni in generale? Non si gioca con i sentimenti delle persone in questo modo Pensavo volesse offendere subito Don Callis Forse ci arriverà gradualmente Magari durante il commento, così, tutto bianco, gli lancia una frecciatina E poi, quando arriva a Benevent, si sfoga Vabbè, partiamo, Peo, dall'inizio Non andiamo dietro a Benevent esplosivo, violento che abbiamo avuto Partiamo dall'opener, che è stato niente po' po' di meno che... Don Callis è una merda No Una merda umana Aspetta Puzza di merda questa merda No Ray Felix contro Claudio Castagnoli Double jab or the match Tra i campioni della Ring of Honor Claudio, ovviamente, campione mondiale di quella federazione Mentre, ovviamente, Ray Felix, campione di coppia con Penta Zero Miedo E, quindi, cosa sarebbe successo qualora avesse vinto Ray Felix? Avrebbe conquistato una red shot al titolo mondiale Ma ha vinto Claudio Castagnoli Che quindi andrà a sfidare i Lucia Brothers con un tactic partner a sua scelta Sicuramente Don Callis, che è una merda Brian Danielson, John Moxley, Willer Huda o Don Callis? Don Callis Vedremo se Don Callis si unirà Che li vedo bene Ma tu pensi che si unirà? Vabbè, ne parliamo dopo Perché già mi fai pensare E qui dobbiamo rimanere a parlare di questa contesa che è stata davvero bellissima Io, quando stavo guardando la contesa insieme a Peo Dicevo, qua c'è tutto Qua c'è tutto quello che mi piace del wrestling Perché c'è la potenza, c'è l'intelligenza La dinampe Cioè, tutta questa roba qui si raffigura in Claudio Castagnoli Che sta avendo, secondo me, un percorso bellissimo Da quando è nel componente del Black Book Combat Club Non solo perché è anche campione mondiale di Ringo Fonor E c'ha il suo stile assoluto Io volevo in Davide Aprile Un crowd, un Cesaro Così fottutamente credibile Con il titolo mondiale sulla spalla Me lo stanno dando in un'altra federazione, un'altra compagnia Però, anche quando si presenti in un'elita Dove lui non è campione Però rappresenta la Ringo Fonor con certo stile Tantissima roba, Peo D'altra parte, refilizzo Ragazzi, un match incredibile Si sono divertiti a tirare fuori delle combinazioni allucinanti Con Ray Phoenix che correva ovunque Sulla corda, sotto le corde, sotto il ring, sotto il ring E addirittura sulle transenne Si è messo a correre sulle transenne E un Claudio che si faceva trovare sempre, sempre, sempre pronto E quando riusciva ad afferrare al volo Phoenix Era una godoria Perché lo faceva con una delicatezza Una leggiadria Incredibile Allucinante, guarda Poi la voglia di Claudio era giustamente fatta del mare Ray Phoenix Sfruttando però le abilità del suo avversario Perché a volte gli riusciva il volo straordinario A volte Claudio lo bloccava a mezz'aria Per esempio la Gorilla Preslam Ma anche quando lo lancia oltre le barricate Con una soddisfazione anche Presente sul volto di Claudio Castagnoli Davvero i due hanno interpretato il match nel migliori modi possibili Da campioni Perché c'era anche questa roba in palio interessante Il double jeopardy match E' uscito da Stratus e Tony Khan così Settimana scorsa E non me lo aspettavo minimamente Ovviamente invece mi aspettavo la grande contesa tra i due Perché ripeto per me C'hanno tutto per rappresentare l'essenza del wrestling Quanto meno quello che ti piace vedere In un match di wrestling C'è l'anno Tutti e due Chi più chi meno Alla fine Il buon Ray Phoenix Che è riuscito A volare A essere Ray Phoenix Si va a infrangere l'ultimo di match Sulla violenza Sulla capacità di Claudio Castagnoli Oramai Di saper come chiudere la contesa Perché Claudio Lì sul minuto finale Si incazza più che mai Gli rifila anche una serie di gomitate violente Sul collo Che sembrano poi stunnare Ray Phoenix Che nulla può E va incassare la ricola Bomb La finice Di Claudio Castagnoli Uno Due Tre Claudio Vince il match Ho apprezzato moltissimo La chiusura Perché effettivamente Dopo un grande match Ne escono bene Entrambi Ok E Phoenix Ha perso Però come diceva Miro Era un Claudio Che ha tirato fuori La cattiveria E voleva proprio Ucciderlo Per far sì che il pinfall Che avrebbe fatto Di lì a poco Fosse praticamente L'ultima serie di gomitate Lunghissime Violentissime E' stato lì E' stato lì un minuto Quasi A prenderlo a gomitate Proprio per essere sicuro Che da questo pinfall finale Con la sua finisher Non si rialzasse più E quindi Va bene così Ci prendiamo Questo due contro due Vediamo con chi sarà Se tira fuori Don Callis Scegli Don Callis Come da che ti imparo No però Tra il resto ragazzi Claudio Castellino E' anche il campione mondiale Della Ring of Honor Motivo in più Per cui si è scelto Secondo me anche lui Come vincitore Desta contesa Giusto così So che tanti fan Di Ray Phoenix In questo momento Mi stanno dando le orecchie Però ragazzi Claudio In questo momento E' un periodo straordinario Sotto ogni punto di vista Andiamo avanti E parliamo Del momento Anzi Uno dei momenti Davvero shock Di questa puntata Quello di Don Callis Che è una merda E turno su Keny Omega Non proprio questo Mi riferisco A Miro Ma non il Miro italiano Il Miro bulgaro Che è ritornato A Dynamite Non è andato a dire Praticamente nulla A Rine Paghet Che ha fatto anche Una domanda Molto intrigante Miro ha preferito Invadere Tra virgolette Il O meglio L'ufficio Di Mr. Tony Khan Curioso il fatto Che poco dopo Anche Thunder Rosa Fa la stessa cosa Quindi Miro E Thunder Rosa Tornano insieme Qui A Dynamite Contanto la presenza Di Gatto E Io sono rimasto Molto scioccato Perché non mi aspettavo Lo ritorni all'interno Di una puntata Del genere Allora È stato tutto Molto particolare Perché effettivamente Ci avviciniamo Al The Poor Nothing E le storie Sono chiuse Quindi Fa tornare le persone Adesso Tu dici Perché Cioè Thunder Rosa Che torna Dove si infila È già tutto scritto Per The Poor Nothing Ma è anche Lo stesso Miro Ma questo segmento Delle persone Che arrivano Si fanno vedere Non parlano E vanno direttamente Nell'ufficio Di Tony Khan Mi è piaciuto Da morire Perché Ti fa pensare Di tutto E di più Che cosa Avranno voluto dire Thunder Rosa E Miro A Tony Khan Che lo sono andati Direttamente A cercare Che poi In ottica futura Intriga Intriga In ottica futura Potrebbero farlo Anche altri In questo momento Sono fuori Le scene Della All Elite Wrestling Anche Andrade Ho notato Che sui social Ha lanciato Questa possibile Non dico idea Però Diciamo che Andrade Forse potrebbe essere Riconvolto In certi piani Perché poi Lo stesso Tony Khan Fugge Tra virgolette Dal suo ufficio Riesce a uscire Indenne Esatto E si presenta Di fronte La videocamera E ragazzi Io Mi aspettavo Un annuncio Da parte di Tony Khan Invece Diciamo che Lui ha fatto L'apparizione Fight Esatto Ha fatto l'apparizione Per fare Per creare Un'inaip Importante In vista Di settimana prossima Dove ci ha Praticamente detto Che ci sono Un miliardo Di Buoni motivi Per sintonizzarsi Perché lui È pronto a sganciare Una bomba Non da poco Non che ultimamente Non l'abbia fatta Tra Olen Ora è pronta Anunciarne Un'altra E visto che Tutto mi sembra Anche collegato A sto discorso Di Miro E Tandarosa Perché lui Poco prima Cosa ti va a dire Prima Di L'annuncio Della bomba Ti va a dire E ve ne notate Che in Elite Stiamo avendo Sempre più Talenti Sempre più Talenti Guardate la puntata Di oggi Guardate qua Mi fa tutto pensare Che settimana prossima Ragazzi Ci verrà annunciato Il nuovo show Della All Elite Wrestling Che sarà Molto probabilmente Collision Che sta davvero Girando Da diverse settimane Un collision Destinato ad essere Molto diverso Da Rampage Ora non voglio Creare ancora più hype Lascio il compito A Tony Khan Settimana prossima Di spiegarci tutto Nei tagli Perché Non è neanche facile Provare a pronosticare Il tutto Perché è una situazione Molto complicata Mi prendo però Il gioco di parole Di Tony Khan Con quel miliardo Di buoni motivi Di sintonizzarsi In settimana prossima Evidentemente C'è un accordo Importante Con la Warner Bros Con TNT O con DBSCA Per avere ancora Più ore Di All Elite Allora Di base Queste ore Ci servono Ci servono Perché i talenti So tanti E gli serve Spazio Vediamo Vediamo Che cosa Ci dirà Il buon Tony Khan Settimana prossima E poi inizieremo A fare Magari qualche commento Più Diranno Che magari Era meglio fare così Era meglio fare così Oppure Ha fatto benissimo Vediamo perché Non sappiamo ancora niente L'unica cosa Io cercherei Di giocare ancora di più Con la situazione Studio Ufficio Di Tony Khan Con la gente Che entra O esce Io Anche a Rampage Farei Farei Grandi rivieni Qualcuno che esce Qualcuno che Ci giocherei un pochino Ci giocherei un pochino Magari Pensateci Magari anche Viste Di settimana prossima Dove lui farà quell'annuncio Magari delle superstar Potrebbe Cosa curiosa Peo È che Dark E Dark Elevation Hanno cessato Di esistere Questo forse Da forse Ancora di più Questo progetto Di nome Collision Ma Però lì è una cosa Complementi diversa Cioè Era uno show Totalmente gratuiti Qui Se si parla di Spazio televisivo È tutta altra roba Esattamente Vediamo Vediamo Non Cerchiamo di non esprimerci Troppo Prima del previsto Parliamo ora Di ciò che abbiamo Don Callis Che è una merda No Di ciò che abbiamo visto All'interno del ring Perché Gli FTR Hanno fatto Capolini All'interno Del quadrato E hanno chiamato Lì con loro Mark Brisco Ma Si è presentata Subito La stable Di J.Lita J.Jerret Peo Allora Era una cosa Che era molto prevedibile Visto quanto è successo Settimana scorsa Però È stato Secondo me Un segmento Davvero Molto bello Questo Continuo a dire Che la stable Di J.Jerret E J.Lita Nel miccardi Sta facendo benissimo Trova conferma Secondo me Tutto in questa puntata Con un segmento Che poteva essere Anche abbastanza banale No Perché ci stava Che J.Jer J.Lita Si presentassero Su Ring Per aver subito La risposta Da parte di FTR Visto quello Che è successo L'ultima scorsa Dove sonnei addirittura Fino alla fattoria Di Mark Brisco Per andare a sfidare I campioni di coppia Io ho ancora Io ho ancora Quell'immagine di Sing Con la bambina E la gallina Che è proprio Nei sogni La notte Non ce la scorderemo Non ce la scorderemo mai E a quel punto Però Gli FTR Gli vanno a dire Guardate Noi non siamo interessati La risposta Lo shot Però Se voi ammettete Che state usando Mark Briscoe Per arrivare a noi Noi accetteremo Perché Gli FTR Vogliono dare un peso importante A questa pseudo amicizia Secondo loro Da parte di Jeff Jarrett E Gli Con Mark Briscoe Che a detta Di Dax Soprattutto Usata soltanto Per arrivare A titoli di coppia Per arrivare Quindi A Gli FTR Diciamo che Soprattutto lì Il manager Della stable Di Jeff Jarrett Gli Non la pensavano Niente così Ma le sue parole Sono state subito Interrotte Dall'arrivo Di Mark Briscoe Che secondo me Alla fine di tutto Sembra davvero Credere a St'amicizia Da parte Di Jeff Jarrett E Gli Soprattutto Che tra l'altro Lui e Gli Hanno anche Un collegamento Particolare Ma a parte questo Il buon Mark Briscoe Si mette in mezzo Alle due team E va a annunciarci Che ha parlato Con il suo fedele amico Tony Khan E il match Oramai Il tag team match E valutare di coppia Della Elite È ufficiale Ma Però Signori C'è la bomba Che Mark Farà da special guest Arbitro All'interno Della contesa E visto Quello che è successo Anche poi Subito dopo Questo annuncio Si presuppone Tutto molto molto Interessante È una storiella Perché è una storiella È anche qualcosa Di già visto Nel mondo del breast Proprio in generale Di già visto Quindi Secondo me Funziona Proprio per quello Perché è una cosa Così Amiche More Friendly Due amici Che vogliono proteggere Un terzo amico Che viene appunto Ragirato Da ulteriori persone Ma questo amico Non si rende conto Perché Crede nell'amicizia Quindi non vede Il problema Che si sta creando Cioè È una cosa Talmente no Da tutti i giorni È una cosa che Molte persone Ci possono passare Ci stanno passando Ci hanno passato Perché è così Proprio casareccia Questa storia Che secondo me Funziona Da Dio Il segmento Come diceva Miro Poteva essere banale Alla fine Non lo è stato Mark Griscos Molto funzionare Che appunto Arriva con sta Non so Bira Champagne Roba da bere Voleva offrire A tutti Proprio per sottolineare Questa notte Che lui non vede Quale sia Il problema Tra queste due frazioni Lui è ignaro di tutto Quindi voleva fare Da pacere Anche se Effettivamente Non proprio Non proprio Mark Con alla fine Jay Lidl E la stable Insomma Tutta la combricola Ce l'hanno vinta Ce l'hanno vinta Perché vanno a sputacchiare La birra Negli occhi Degli RTR E poi In un modo Così Un po' furbetto Fanno cadere Il povero Mark Nella pile driver Di Dax Esatto Di Dax Se non mi ricordo male Perché Dax Era ciecato Quindi non sapeva Chi avesse Lì davanti Pensavo magari Che il suo compare Gli abbia lanciato Qualcuno Della step Di Jalito E quindi lui Andava a connettere La part E invece no Era proprio Mark Brissus Quindi si è Creata questa situazione Tragicomica Che Secondo me funziona Proprio perché È così Casalinga Casareccia Così Molto real life Così reale Così reale Ci sta Io sono Abbastanza contenta Di tutto questo Sono proprio Io sono Sono contento Anche perché Attualmente In un'elite I tag team Sono più impegnati Nelle stable Che altro Jeff Jarrett E Jalito Stanno facendo Il loro giusto Funzionano Funzionano Qui hanno Con un segmento Hanno anche messo Secondo me Un ulteriore hype In vista Da Borlodio Che ormai Il match Sarà ufficiale Mark Brisco Sarà l'arbitro Chissà come Reggirà Mark Brisco Ha questa Anche file driver Che gli ha fatto Dax Che però Come ha detto Peronia Era stato Cercato Dallo sputo Dall'altro Proprio del manager De la stable Di Jeff Jarrett E Jalito E poi Attenzione Attenzione Perché la stable Jeff Jarrett E Jalito È molto Molto furba Quindi Con il carico Di questa file driver Che è toccata A Mark Potrebbero cercare Di fregarlo In qualche altro modo Esatto E quindi portarsi A casa Il match Oppure no Oppure ci sarà Una reunion Pazzesca Contro tutti quegli altri Ragazzi Mark Brisco Comunque Alla fine Non è che Sta tanto bene Il cervello Potrebbe Potrebbe fare L'arbitro Che a un certo punto Entra direttamente Nel match Quindi Secondo me È uno storyline Che fa benissimo Si prende il giusto Spazio Che non è Né troppo Né poco E mette il giusto Hype Per questa contesa Double No Perché Secondo me Anche una contesa Tranquilla Ci vuole Ogni tanto Mica devi portare Tutte le storyline Comunque La presenza La presenza Di Mark Brisco Dà secondo me Qualcosa in più A questo Tactic Match Si Assolutamente Proprio Andiamo avanti E parliamo ancora Di Rine Paghet Che è stata davvero Ovunque In questo episodio Di Dynamite Che Di trasporto Esatto Ma è andata a intervistare Però Chris Jericho Che Ci ha annunciato Delle robe Molto intriganti Anche lui Perché Ha ottenuto Un ordine restrittivo Contro Aduncol Visto ciò Che è accaduto Settimana scorsa Raga L'abilità di Jericho Di rigirasse La frittata In qualsiasi Tipo Di Situazione Ma farlo Come lo fa lui Con Con proprio L'intento Di credere A quello Che sta dicendo È una roba Che mi spacca In due Perché sono settimane Che Jericho Vuole passare Da vittima Quando in realtà Il casino Ha fatto tutto Lui E ci sta riuscendo Perché lui Ci crede Lui crede Fortemente Di essere Da vittima A me mi fa morire Mi fa morire Mi fa proprio spezzare In due delle risate C'è un'interpretazione Clamorosa Di questi atti C'è il credito Ci crede Esatto Questo ordine Restrittivo Prevede che Aduncol Non possa essere Nel suo stesso edificio E quindi Aduncol Ogni volta Che sarà A Chris Jericho Una puntata Sarà bannato Visto Quest'ordine Restrittivo L'ottenuto Da Mister Rocio Gli si va Dunque A parlare Di fronte Chi Rodericko Roderick 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 Che giustamente Fa notare A Chris Jericho Che lui A differenza Aduncol Non ha ricevuto Non ha ricevuto Nel suo ordine Restrittivo E ora Visto che vuole Vendicare Anche il suo amico Che Jericho Descrive come Codardo E Roderick Sa benissimo Che Cole Non è il Codardo Soprattutto in questa situazione Roderick Strong Vuole vendicare Il suo amico Quando settimana Prossima In un false Cont Anywhere Match Che Clarumorosamente Viene anche accettato Da Chris Jericho Che però In un primo momento Secondo me L'ha accettato Facilmente Perché pensava Di poter usare La Jericho Approciation Society Che però Visto che lui Ha un po' Calcolato male il tutto Dovrà Dovrà rimanere Fuori Dall'edificio Perché Roderick Strong Ha ottenuto Anche lui Un ordine Restrittivo Ovvero Quello che La stable Di Jericho Settimana prossima Sarà bannata Come è bannata Attualmente Ad un call E a me è piaciuto Molto a Roderick Strong Che si è fatto Davvero molto Furbo Presentandosi Di fronte a Chris Jericho E dicendoli Soltanto dopo Che aveva ottenuto Questo ordine Restrittivo Da parte di Tony Khan Bello 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 Interessante Ci si può Guarda di E curioso Anche il fatto Di ciò che succederà Davvero Però settimana prossima Perché Il false Conte di guerra Prevede anche Che possano uscire Dal quadrato E andarsi a menare Altrove Chissà Se fuori dall'edificio Sbucherà Un gerico preciso Oppure Un gerico preciso Oppure Ci saranno altri Colpi di scena Fatto sta Che pure qua La storia Entra Chris Jericho Rancorza Secondo me Sta andando avanti Molto bene Di gran livello Ci avviciniamo A Double Ornodding Sto curioso Di vedere Come verrà Impostato Tutto quanto Detto ciò Andiamo avanti E parliamo Aspetta Aspetta Devo dire che Don Calis È una merda Umana Che puzza di merda Era tanto Che non lo dicevo Oramai è tutto così Il video Don Calis Torniamo sul ring Match Valido Per l'International Championship Perché Orange Cassidy Ancora una volta Difesa al suo titolo Dall'assalto Di Daniel Garcia Ma che hanno dato Garzia Ma che hanno dato Non si ferma più È diventata Mary Coladino Ma che è successo Quello 1 2 3 Mi fa il danse Ma che è successo Passito Non lo riconosco Prima ogni tanto Ma mo È un continuo È un continuo Io sono Allora Preoccupata Voglio essere un po' Serio Nel parlavire Sta contesa Perché ha ottenuto Tanto minutaggio Perché poi Sappiamo benissimo Quanto all'elite Tenga non solo A Orange Cassidy Ma anche a questo Daniel Garcia Che non viene riconosciuto Come uno di 4P Ovviamente Però se vede Beh è arrivato dopo Però se vede che Ci tengono tanto Anche perché è molto giovane Ora però Vi devo dire la verità Non so se sia stata Colpa del minutaggio Se sia stata Colpa di Garzia In un certo momento Del match Mi ha fatto Rodeo Però L'interpretazione Da partita di Garzia In questa contesa A me Non mi ha trasportato Tantissimo Io penso che Orange Cassidy Ebbe avuto avversari Migliori di lui Con tutto questo Minutaggio Da quando sta a difendere Sto bellissimo titolo Garzia Non lo so Svariate volte Durante il match Mi ci ha fatto Un po' rode Il no Non sellava Ecco Il no selling Sulle manovere Di un Cassidy Che invece Ragazzi Non gli esibò di nulla Perché se vede Che piano piano Lui ti sta raccontando Una storia Dove sta finendo Le energie Perché sta difendendo I titoli Settimana a settimana Match dopo match Lui sta sempre lì A Dynamite O Rampage Con la sua presenza Lui ti la racconta benissimo Che non è più Orange Cassidy Di magari due mesi fa No È una Cassidy Che ora sta Prusciugando La forza del suo corpo In questi match Soffre il più Soffre il più Perché sta affinendo L'energia Diferenza poi Di però Di il suo avversario Settimana Che anche quando Ha incassato La seconda beach break Si è rialzato Dopo 10 secondi A me quella cosa Sinceramente parlando Mi ha fatto Prodere un po' il culo Ok non vendere Tutte quante le offensive Come se fosse Avesse lo sparato Dalla tribuna Però La seconda beach break Che tra l'altro Viene fatta dopo circa Diversi minuti Di match Non capisco Perché lì Garcia proprio Non me l'ha voluto Per niente vendere Si è rialzato Dopo 10 secondi Per finire poi Il match Un minuto dopo A me non è piaciuto Questa interpretazione Da parte di Garcia Ma non solo Nel finale Anche durante il match Non lo vedevo Tanto desideroso De valorizzare Quello che invece Cassidy in questo momento È E che sta riuscendo bene Ovvero Questa voglia Di non riuscire Più a essere Totalmente a 100% Durante i match Si Ultimamente Garcia sta stellando Davvero poco 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 Un po' tutti quanti È un Garcia diverso Però forse Un pochino esagerato Che rompe Un pochino La magia del wrestling Però Di base Io Il match Mi sono goduto Mi sono divertita Poi se ci vado A ragionare sopra E dico Si effettivamente Garcia Non vende più Un cazzo Ultimamente Ma la seconda Beach Black È clamorosa Però che non la vende Per niente Per niente Però Se devo dare Un giudizio Complessivo A me comunque Il match Ha divertito Tanto È Interessante La situazione Cassidy Come dice Miro Sta raccontando Questa storia Molto particolare Di appunto Questo campione Che piano piano Sta finendo Le energie E fa sempre più fatica A concludere Il match Tanto che Alla fine Si deve anche Ingegnare Più e più volte Perché effettivamente A livello fisico Il fisico Non lo sta seguendo Quindi vediamo Come Andrà a finire Qua Frega Garcia Con una culla Dopo però Un batti e ribatti Importantissimo Lì sull'atto Finale Mi piace Mi piace molto Come sta Intercontrando Cassidy Non è già Abbandonato Will Ops Esatto A meno che Non lo ritirano Fuori Che potrebbe anche Approfittare Nel momento Se tu ci pensi Will Ops Perché Dopo Don Culli Non ci posso Poi se tu pensi Nel post match C'è anche Un lavoro particolare Del cameraman Che va a inquadrare Orange Cassidy Che è distrutto Al centro del ring Che senza più fiato Che fatica Anche a muoversi Per questo sto dicendo Che questa storia Sta venendo raccontata Molto bene Un po' da tutti Non solo Da un monumentale Orange Cassidy Ma anche Da chi gli scrive match E anche chi sta seguendo Questo percorso Io credo Che avremo forse Un momento Dove Orange Cassidy Purtroppo Le forze Gli abbandonano Del tutto E qualcuno Ne approfitterà Ma sarà una storia Anche molto intrigante Perché Cassidy Ne sta uscendo Se ne approfitta Will Ops Però me cazzo Però Cassidy Ne sta uscendo Davvero bene Solo applausi Orange Cassidy Detto ciò Andiamo avanti E parliamo Di un altro segmento Pieno di promo Segmenti Di questa settimana Andata Poi di Serve più tempo Si serve più tempo Serve Serve più tempo Intervista A Christian Cage Seppur lui faccia Tutto quanto Da solo Lì al centro del ring Con Tony Schiavone E Lucia Saulus Accanto Tra l'altro E' bello che Tony Schiavone Lucia Saulus Tu li vedi I primi 10 secondi Poi Christian Si mette in proprio Di fronte alla telecamera E va bene così E va bene così Il secondo miglioril Della compagnia Non me ne vogliano Raga Tutti gli altri Magari I fan del Quello per una Stable Io qua vedo Soltanto MGF Superiore a Christian Con questo personaggio Davvero Strono Ma poi che Se fa affischiare Davvero ovunque Ma De cattiveria Qui lui Inizia il promo Come al solito Andando a offendere Il pubblico Di Detroit Poi però Tira fuori Il suo promo E Peo O di tu Che promo Da parte mia Le posso dire E' stato davvero Un promo Interessantissimo Un'articrista Che guardate caso Sta Sta rendendo La contesa O meglio Sta rendendo La realtà Per il Tino Intrigante Perché lui E' andato A toccare cose Un po' Pesanti Come al suo solito Un po' Pesanti Sapete Io storco Un pochino Del naso Quando si diranno In ballo Certe cose Però Dipende anche Dal momento E dalla persona Me lo fa MJF Sì Me lo fa Christian Però sì Va a toccare Il passato Di Warlock Con questo papà Che non c'è più Proprio come Il papà De Jungle Boy Del vecchio rivale Di Christian Quindi Questo Christian Kedge Che mette Il didino Nella piaga Sempre Comunque Frecciatine Per chiunque Frecciatine Importanti Pesanti Che io non apprezzo Totalmente Però ripeto Devi vedere anche Il contesto MJF Ok Christian Kedge E te devo dire ok Allora Se questa cosa Lo farebbe Magari O me lo facesse Un John Moxley Stonerebbe un po' Per quello Che lui Non ha bisogno Di attaccarsi A altre figure Se non il breast Che è di fronte Christian è uno Che ama I mind games Giochi mentali Per ottenere Ancora Di più Ma ora Parlando in chiave smart Lo fa anche Per dare ancora Modo al suo avversario Di incazzarsi di più Con lui E mandarlo ancora Più over Quando si tornano Di fronte Quindi Diciamo che Quello che fa Christian È qualcosa Secondo me Di davvero straordinario Perché pure Lui Come te lo interpreta Perché lui qua Come hai detto tu Va a prendere Di mira Il papà Che non c'è più Di Warlock Stessa cosa Che fece con Jungle Boy La differenza tra due È che il papà Di Warlock Non era Non era famoso Quindi interessava A nessuno Se non A Warlock Stesso Frecciatina ancora più Pesante Sotto certi punti di vista Che poi Tu Christian Trovi anche Una chiave importante Perché vai a dire Il buono Warlock Ha cercato Un'altra figura Che va a sussidio Su padre All'interno Della puntata All'interno Del wrestling E questa figura È quella Lina Nanderson Che a detta di Christian È un mezzo Bollito È un mezzo Bollito Che in carriera Non ha fatto Chissà cosa Non è mai stato World Champion Così come invece Lo è stato Christian C'è più volte In diverse compagnie In diverse scuole In diverse compagnie E ora Christian Vorrà dimostrare Ultimamente a Warlock Non solo di essere migliore di lui Ma essere anche migliore Di quella leggenda Che si porta dietro Diciamo che Raga Tutto quanto contestualizzato Molto bene E Christian È un figlio Di una buona donna Che sa Sempre Come far parlare di sé Nel bene o nel male Ma lo fa sempre di livello Di livello E poi Ci ha aggiunto La stoccata finale Con la preciatina Di Ernenderson Di aver Abbandonato Il figlio Di non è lì Dopo quella promessa Famosa Di C'è da Brock Anderson Che girava Con Ernenderson Che voleva Appunto Spince Poi è sparito E quindi Ci ha avuto Anche un bello aggancio Lì E quello È stato Il punto più alto Del promo Per quanto mi riguarda Quando ha dato La stoccata A Ernenderson E dico E bro che fai Bello E' pure E' un bro breakers E' un bro breakers Brock Anderson Esatto È venuto a fare Il bro breakers Così Questo bro Questo bro Kenderson Che è sparito Però Cristian Che ha detto Guarda che ancora Sotto contatto La tua compagnia Tu hai già mollato L'idea Di vederlo un giorno Campione mondiale Col tiacchianto Frecciadina Glamorosa Perché Brock Anderson Non l'hanno più Portato uno screen Perché evidentemente Chissà se Rispunto fuori L'indie Vi si sa Da un dinosauro No Ma ci dice lui Sotto la maschera Vabbè A parte A parte questo Da notare La relazione finale Nel pubblico De Detroit Che a un certo punto È andata a urlare A Christian Cage Edge is better Nel dubbio Nel dubbio Questo Edge is better Che risuonò In maniera importante Anche Un anno Quando lui turnò Il Insomma Curioso di vedere Cosa accadrà Comunque Questa storia A Christian Cage Raga Come prevedibile Sta dando Una storyline Intrigante Al titolo TNT Il bello è che Sta a staffare da sola Perché tu l'hai visto Esatto Tu l'hai visto War E non Beast War Esatto È il momento Di parlare Delle donne No Di Don Callis Che è una merda Puzza di merda No Parliamo delle donne Perché Anna Jay Ha fronteggiato Julliard In un All's Bar Match Allora A parte che dobbiamo dire Una cosa importante Importante Questo match Inizia Un pochino In ritardo Perché Anna Jay Va a colpire Julliard Durante la sua Entrata Trionfale Non so tu Peo Ma quando questo è successo Io ne ho detto un po' Di tutti i colori Anna Jay Perché l'entrata Di Julliard Mi trascina Davvero tanto Ma giustamente Anna Jay Che arriva da Lì Con la voglia Di spaccare Giulia Per riprendersi Anche una vendetta Su di lei Visto che Già l'aveva sconfitta Ci stava Direttamente il tutto Però Diciamo che L'ho fischiata Ma A parte questo No Sbarra Secondo me Di livello Che Mi ha lasciato Davvero Molto stupito Su diversi punti Di vista Perché Da una parte Anna Jay Inizia Anna Jay Che tra l'altro Perde no Però È quella Che trascina Gran parte La contesa Gli spot Più cruenti Li fa lei Cioè Lei come utilizza Gli strumenti Te fa quasi pensare Che li ami Guarda Per esempio La mossa fuori da ringa Sulla pila De sedie Dove scaraventa Giulia Su quelle sedie lì Ma pure Quando va a mettere Un secchio Sul corpo Di Giulia Che per poco Non se ne abbissava Nel secchio Sparita È il più grosso Di lei Però poi Anna Ha preso un po' Di ricorsi Gli si è Buttata contro Per distruggere Il secchio Che stava coprendo Stava coprendo La sua avversaria L'ho trovata davvero Tutto quanto Molto bello Da parte di questa Anna Jay Che i match Con le situazioni speciali Non li sa sbagliare Perché evidentemente Anche si galvanizza Con questo Non so descrivere bene Il suo chara Che il suo personaggio Però Diciamo che lei Quando vede I strumenti Tira fuori Il suo lato Aggressivo migliore Secondo me Eh sì Questa Anna Jay Che comunque È arrivata Nel mondo del wrestling Da poco Vabbè che saranno Tre anni Però comunque È stata ferma tanto Pure quando è arrivata Ha avuto un'infortuna Importante Ha avuto un'infortuna Importante È stata ferma tantissimo Poi pure quando è arrivata Stava facendo letteralmente I suoi primi match In non l'elite Quindi Ok Non arriva da un passato Tipo Jade Che era già atleta Cioè Quella c'ha C'ha 18 anni Quanto c'aveva Non si sa È giovanissima Quindi Stiamo parlando Di due atlete Principianti C'è poco da di E poco da fa Anna Jay Con gli strumenti Non si sa Perché Non si sa Per come Rende il triplo E questa è la verità Questo è Il terzo Quarto match Arcor Che tira fuori Credo Forse è il terzo No Vabbè Che non lo sbaglia Perché anche gli altri Intact team O da sola E sono usciti bene Lei si trova bene Con gli strumenti Cozza un po' A livello visivo Perché lei la vedi Carina Piccolina Giovane Poi prende Sti strumenti Capito E rende il doppio Però va bene Così Cioè nel senso Se la sua dimensione È quella Se si trova meglio A fare Un match Arcor Con gli strumenti Con l'utilizzo Gli strumenti Perché magari La aiuta A open bang A famiglia Fa questo tipo di match Cioè chi ha incontrato Ci sono un sacco di persone Che quando hanno gli strumenti Insano che cazzo fa E ne abbiamo viste tante Esatto Ne abbiamo viste tante Anche molto più navigate Molto più navigate Molto più esperte Esatto Molto più esperte Che quando hanno gli strumenti In mano Letteralmente non riescono E lì secondo me Entra in gioco Un fatto di Attitudine Cioè Lei è portata Per fare i match Con gli strumenti Punto E Giulia Dall'altra parte Si conferma Si conferma Ottima In questa nuova dimensione Aiutata Io voglio Voglio dire una cosa Giulia Hart Dopo un minuto di match Si porta Una mano Sulla spina dorsale E io lì Scherzosamente Ho detto Non è questa Che già sei rotta Perché Aveva già sbattuto Contro le danzenne Era stata colpita da dietro E da quel momento Giulia ha iniziato A toccarsi La spina dorsale Sta cosa Lei lo fa Per tutto Quanto il match Davvero Ragazzi Guardatevi La contesa Giulia Hart Sembra davvero Soffrire tantissimo Durante Tutta quanta La narrativa Anche del match Anche quando Lei fa le offensive Soffre tantissimo Appena fa una qualcosa Si mette una mano Alla schiena Io non so Cosa sia stata davvero Bravissima lei A vendere a vendere A vendere il tutto Nei migliori dei modi Perché io ho pensato Veramente che se fosse Fatta male Se fosse fatta male Dopo un minuto Però Ragazzi Il match L'ha fatto L'ha disputato Ha incassato Tantissimo Tant'è che ti ho detto Anna Jay Domina il 90% Della contesa Fa lei Forse i sport I più intriganti Di questi momenti Però ragazzi Giulia l'incassa L'incassa Si rialza sempre Tra l'altro Lei proprio Sul finale Rivendica La manovra Sulla pila Delle serie Connettendo un superplex Proprio ad Anna Jay Per poi chiudere la contesa Con la sua mostra Delle sottomissioni Prendere così Il 2 a 0 Su Anna Jay E' una Giulia Che qui Cioè Non si può dire Che ha fatto La prestazione Diciamo che è rimasta Sul pezzo E io voglio fargli Complimenti Qualora Non si fosse fatta male Perché Allora mi dispiacerebbe Però Qualora Avesse venduto Tutto quanto così bene Dopo un minuto Ho notato sta cosa Lei finisce il match Che si tocca la schiena Ma però è bello Che quando lei celebra La vittoria Diventa improvvisamente seria E io stavo lì Così E ho detto Ma cazzo Fino a un secondo Fa di toccare la schiena Però evidentemente Ha un attitude sua Tra l'altro Appena lei vince i match Cantala su di me Ed è una cosa Molto particolare Secondo me Anche questa Della sua caratterizzazione Di personaggio E' una caratterizzazione Così A me piace molto A me Giulia piace molto Piace molto Anche se qua Mi viene da dire Che è Anna Quella che Si Tira avanti il match Ed è un po' clamoroso Se tu pensi Vabbè ma tra Anna e Giulia Non si sa che Ha iniziato prima C'hai capito Però Anna Sta conquistando Qualcosa Nonostante anche Le due sconfitte Contro Giulia Il che non è poco Io sono curioso Di vedere Che tipo di percorso Faranno ste due Perché Vediamo da qui A tanti due tre anni Sì Esatto Sono curioso di vedere Cosa succederà Ste due Dentro due tre anni Però Le promesse ci sono E vediamo un po' Come si evolveranno Le due persone C'è che pure Anna Si è evoluta tantissimo Giulia Ha iniziato Da poco Con l'Aus of Black E sta ottenendo Tanto Detto ciò Andiamo avanti E parliamo Dei proprio loro Tra parentesi Non calli schiena merda? No House of Black House of Black Composto da Mara Che play Mara Mara Che play Mara Che black Betty Matthews La prombringer In Mara Can play Oggi E ovviamente Proprio lui Brody King Che hanno fronteggiato Bandito E i best friends Nel primo Open House Match Open House Match Il primo Della All Elite Wrestling Allora Bello Ragà Bello Ma che vedevo da dire Che vedevo da fare Ste luci Basse Perché House of Black Tutti questi sfarfalli Intorno all'arena Sui titanon Che erano sospenti Fanno questi sbrillucci Tutti gli altri titanon Che sbrillucci La luce bianca Queste luci Che danno questo tono freddo Questo tono cupo Bellissimo Peccato che non si vede Un cazzo di quello che succede A Bordo Ring Io a un certo punto Ho visto Brody Lee Che si lanciava Brody King Brody Lee Brody King Oggi A destra A manca Lanciava Picchiava Le persone Io non capivo Chi stava picchiando Però vedevo Che stava picchiando Ma l'atmosfera c'era L'atmosfera Dell'House of Black Si deve sentire Si è sentita E il pubblico pure Si sentiva Nonostante erano Probabilmente quasi Tutti oscurati Era proprio figo Cioè era proprio 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 figo Settimana scorsa Abbiamo parlato delle regole Questa settimana Vi diciamo Non solo Che è cambiata Un po' l'atmosfera Quando loro sono sul ring Perché Come ha raccontato Peo C'è ora Un particolare modo Di impostare le cose C'è questa Luce nera Attorno al quadrato Che copre la gente Luce bianca Che inquadra Il ring Luce bianca C'è proprio l'atmosfera Dell'House of Black Cioè la senti Che fai a casa loro Senti che l'arena È diventata la loro E quello vuol di tanto Esatto House of Black Proprio in tutto e per tutto Bello Allora Una cosa che invece Mi era stata sfuggita È ciò che devono scegliere Avversari All'House of Black Perché Giustamente Questa settimana Sono proprio loro Chuck Taylor Trent E Bandito A scegliere Quale Quale nota Togliere dal match O aggiungere Di non neanche i punti di vista E il buon Chuck Taylor Decide di Bandire dal quadrato Giuli Art Perché le fanno paura Le streghe Ai best friends E hanno molto paura Di questa Giuli Art Quindi Stasettimana Per esempio Nel primo Match Nel primo Open House match È stata bandita Giuli Art Non so come verrà A gestire un futuro A gestire un futuro Perché Non è molto chiara Ancora secondo me Tutto quanto Io ho apprezzato molto Perché c'è questa House of Black Che dice Ok facciamo le open challenge Venite a casa nostra Con le nostre regole Però danno comunque Un'arma Agli avversari Sarà poi Gli avversari Usarla bene o male Per esempio In best friends L'hanno usata malissimo Perché comunque Giulia stava lì Con la schiera E gli faceva male Che aveva appena fatto Il match Insomma Abbastanza pesante Quindi Usata malissimo Però Mi piace Perché non è un Ci chiudiamo Dentro la nostra casa Dove siamo forti È un Vi accogliamo Della nostra casa Con le nostre regole Però Anche voi Avete Qualcosa Per difendervi Non siete Lasciati In nudi In balia Della House of Black E Mi piace molto Questo pensiero Mi piace molto Poi stare lì All'avversario Usare bene o male Il La regola aggiuntiva Del match In questione Esatto Allora Sulla contesa Mi è da dire Che il minutaggio Purtroppo È stato breve Visto anche L'episodio Che abbiamo visto Da una volta Non abbiamo visto Per esempio Il buon Trent Tanto sul quadrato Così come dall'altra parte Però non abbiamo visto Tanto Buddy Mathews Che alla fine però Risulterà essere Il risolutivo lui Perché chi è che lancia Sulla spalla Del Brody King Il buon Chuck Taylor Proprio Buddy Che gli fa Quell'assist E clamoroso A me quando lanciano Le persone a Brody Mi piace proprio tanto Sai come si chiama Sai come si chiama La finisher di Brody King Dante su inferno Che pure lì È un altro riferimento Non da poco Fatto sta Che ragazzi L'unica cosa L'unica pecca Secondo me Nel match È il poco minutaggio Però Per me più che altro Ti va lasciare Un marchio Quello che è Questa nuova Questo nuovo percorso So Black In questi open house match Che mi piacciono Mi piacciono Arriveranno avversari Di livello maggiore Perché pure lì Bandito con i best friends Questa è stata la prima volta Che facevano Questo trios Quindi alla fine Mi prendo tutto quanto E poi signori Occhio a questa regola Aggiuntiva Che effettivamente Di match in match Può cambiare tutto Perché se sono furbi Possono inventarsi Qualsiasi roba Quindi è sempre Letteralmente Lo stesso match Ma diverso Adesso Dobbiamo parlare Di Don Callis Che è una merda No Dei promo Dei Four Pillars Che Non si sono visti In arena Ma Sono stati montati Quattro video Dove hanno parlato Tutti quante Allora Quello che mi è piaciuto Di più L'ho condiviso anche Nelle stories È stato MJF Non per il fatto Soltanto che abbia iniziato Il tutto con What do you guys Want to talk about Citando Il suo idolo Con i rones Ma Perché Lui Ci ha fatto capire Le grandi differenze Tra Maxwell J. Will Freeman E gli altri Non che io creda Vivamente a ogni Sussinga la parola Perché pare Che soltanto lui Abbia fatto tanto E gli altri Abbiano fatto niente Nulla Su confronto Ma Perché come racconta lui Si vede la grande differenza Tra quello che può stare Nel Main Event A testa alta E gli altri Che devono ancora Un po' Maturare Devono ancora Crescere Devono ancora Avere il personaggio Non per stare In fronte M.G.F. No Per stare Fissi Nel main event Continuo a dire Che tutti e quattro I forpidels Si sono meritati Il main event Di Double or Notting Però Se io La ragiono In ottica futura Riconosco Nei parole Di M.G.F. Questa grande differenza Che c'è tra lui E gli altri Che hanno bisogno Ancora di qualcosa Per arrivare A essermi Nel main event E questo punto Viene a dire Anche per arrivare A essere campione Già vi spoiler Il pronostico Che darò A Double or Notting M.G.F. Mi è piaciuto tantissimo A parte che lui Si descrive un po' Come il polme Che arti Gli altri fanno tutti Cagare Quello mi è piaciuto Relativamente Ma Non so tu Che ne pensi Hai ascoltato anche Semichevara Che sembrava Pronato un po' Da face Non so se volete Sottolineare questo Già col boy Derby Allin No M.G.F. Un passo avanti C'è poco da fa Ha fatto Meno storyline Magari Meno contese Rispetto agli altri Meno contese Però Come dice lui È Brian È punk È Gero C'è raga È La sconfitti tutti La sconfitti tutti Anche con C'ha C'ha del Cody Ha incitato Cody C'ha un palmeras Importante Ha un personaggio Importante Ha uno status Che si può permettere Di fare Tanto Si può permettere Di fare tanto E non era facile Per il ragazzetto Giovanissimo Si può permettere Pure di dotare poco Aggiungo E quindi Stiamo proprio Su un altro livello Tra gli altri Tre pillars Io continuo a dire Che Semichevara Raga A me mi è piaciuto Un botto Mi è piaciuto Tanto il pro Mi è piaciuto Le parole Jericho Mi ha sorpreso Tantissimo Il fatto che Molto face Molto face Non me lo accetto Cioè Anche Anche Di base Semichevara Non è face Perché Non mi è Tipato Mi è fischiato Sta impicciato Con Jericho In questo momento Non può vedere nessuno Fa storia con Alan Collo Lui che mi dirà Un promo Così Ma ha destabilizzato Però mi è piaciuto Tanto Sì perché Lui praticamente Ti va a dire Che mette corpo E anima Ogni match Rischia anche la vita Non solo per lui Ma anche E poi E poi Il pacchetto video È stato allucinante Dove hanno messo Uno dopo l'altro Tutti i spot Allucinanti Le follie Di semi Che lui ha sempre detto Le fa perché Si diverte a farle Si diverte A lasciare il pubblico A bocca aperta Quindi lui continua a farle Anche se poi Il pubblico Lo fischia E vederli uno Dopo l'altro La cutter su codi Un sacco di roba Un sacco di roba Allucinante È stato Magnifico Poi sotto la voce Del Gianrico A me mi ha emozionato Proprio Il promo Di si arriva E se io incontro Anche ovviamente La moglie Dai Melo Che anche lei Probabilmente ha promato Da face Andando a far capire Tutto così strano Però Me lo prendo Me lo prendo Un po' meno Jungle Boy E Derby Alli Sinceramente Si questa settimana Sono assolutamente D'accordo con te Main event E lo posso dire Che Don Callis È una merda Adesso Ma come cazzo La si fa Dopo che Che Kenny Omega Fa la famiglia Non si tocca Toccatemi tutto Non toccatemi Don Callis Ma fai una roba Del genere Io 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 non ci posso Credere Io ho il cuore Infranto Il mio cuore Sta piangendo Don Callis Mai più Mai più Ti voglio vedere Mai più Tu sei partito Dalla fine Noi dobbiamo Partire dall'inizio Del main event Don Callis È una merda Con John Moxley Che ha attaccato Durante l'entrata Kenny Omega Pure lui È una merda E la contesa Ci ha messo Anche un po' A partire O meglio Lo Steel Cage Ci ha messo Un po' A partire Perché i due Si sono malmenati Fuori dal ring Lì guardate caso Poi dove sono Anche arrivati I ragazzi Dal Blackpool Combat Club Dove sono arrivati I Bucks A sostenere Kenny Omega Questa volta Sempre sul pezzo I Bucks La volta Matt e Nick Erano pronti Ad aiutare Kenny Andano a colpire Claudio E Willard Bellissimo Invece Brian Daniels Che ha preferito Andare al tavolo Di commento Per commentare Tutto quanto Brian Daniels Ha fatto un'interpretazione Allucinante Cioè Sembrava quasi Convinto Di ciò che Stava interpretando Era davvero Fiero del match Di come sta andando Di che Don Callis È tutto Monumentale Brian Assolutamente Poi però I due lottatori Se parto più nessuno De Blackpool I due lottatori Entrano all'interno Del ring E lì parte La contesa Tra i due rivali Di sempre Possiamo dirlo Per chi segue Davolo Eletta Dal giorno 1 Il quarto capitolo Il quinto Il quarto Il quarto Gli hanno chiusi Insieme Dentro quella gabbia Gli hanno chiusi Con anche Secondo me Il saper Che poi Avrebbero fatto Davvero De tutto E di più Con la violenza Che non è mancata Io Niente di dire questo Tu sei Fan di Omega Più di me Sicuramente Ma John Moxley Per me È l'avversario Migliore Di Omega Se si vuole Tirare fuori Il suo lato Aggressivo Io non ho mai visto Neanche contro Will Osprey Occhio Quando lui È contro John Moxley Tira fuori Un lato Sì Tira fuori Un lato Che non Tira fuori Con nessuno La voglia Di far male Al suo versario L'ho vista Soltanto contro Moxley Di fronte a sé Non solo Nelle contese precedenti Ma anche E soprattutto Qui Vista anche La promessa Che era stata fatta Questa è Una rivalità De core Tra letteralmente Due che stanno Lì In top Vogliono dimostrare Vogliono dimostrare Vogliono dimostrare Incredibile Come appunto Moxley Riesca a tirare fuori Un lato di Omega Che non siamo abituati A vedere Ma quando Stati con Da Mox È tutto poesia Perché i due Sembrano davvero Il nero E il bianco Due opposti Ma allo stesso livello Non vedi mai Uno davanti All'altro Tirano fuori Una contesa Allucinante Con degli spot Allucinanti De cruenza Signori Quando ho visto Quando ho visto Il vetro Io L'ho pianto Io l'ho pianto Quel vetro Perché io ancora Mi ricordo La Paradigma Shift Praticamente La prima volta Che se sono visti Sul famoso Tavolino De vetro Che era in arena Cioè una roba Che si è portato dietro Da quattro anni Il tavolino di vetro Con Kenny morto Sul tavolino Ma si può cifrare Quei pezzi di vetro Tirati fuori Sono sempre quelli L'hanno messo da parte Così quando fanno La contesa Lo tirano fuori Ma anche la sedia Con il filo spinato D'attorno È stato un altro E questa sedia È stata ancora più Perlomenista Secondo me Dei vetri Perché è stata schiacciata Però i vetri Il filo spinato D'attorno alla sedia È quella che Ha provocato L'uscita di sangue Non solo Da Moxley Che era quotato 1-0-1 Ma anche da Kenny Omega Che gli è stata distrutta Probabilmente La schiena Da questo folle Moxley Che voleva portare Tutto a un altro livello L'aveva promesso Che lui Si sente sempre meglio Giorno dopo giorno E ha portato Dentro quella gabbia Una versione Di sé Ancora più Spirale del solido Che a un certo punto Oltre a questi spot L'hanno citate Lui si mette A smontare il ring E va a usare Il turnbuckle Va a usare il gancio Per andare a tirare Una guancia Di Kenny Omega Di fronte La telecamera Ho letto su internet Che lì su TNT Sono tornati Da pubblicità Con l'immagine Proprio di lui Che Cioè Moxley Che tirava La guancia Pensa che si era Sintonizzato In quel momento Una cosa davvero Folle Assurda È stata una Crudeltà Una violenza Non Allora Per me Immaginabile Però Hanno superato Le aspettative Per quello che mi riguarda Sono due colossi Che si Evolvono Ma rimangono Sempre lì Non si schionano Dall'Olimpo Dei migliori Non si schionano E quando Stanno sul ring Cioè Senti proprio Un'energia diversa Un'aria diversa E si trasformano Tirano fuori Delle robe Che da Mox Te le aspetti Da Kenny Omega Ormai Te le aspetti Però non sei abituato Regal Vogliono sempre Innovarci Rinnovarci E Stavolta Hanno voluto Anche secondo me Un po' Rimediare A qualche errore Passato Ti cito La Forse V-Trigger Migliore Degli ultimi anni Quella che ha Distrutto Ha distrutto Una parete Dello Stilkage Una parete Della gabbia Io Mi sono Messa quasi A piagne Perché ho visto La gamba De Kenny Omega Tra la gabbia E il ring Di Tec E poi lui Subito Ha chiamato L'intervento Di qualcuno Che sembrava Essersi fatto male Ma lì Ti fai Cioè Stai in corsa Con una V-Trigger E va giù la gamba Che non trovi L'appoggio Perché davanti a te Si è sponato tutto Cioè Uno spot Da rimanerci secco Da perdere la gamba Invece Non siete Via Però ovviamente Era tutto Studiato Perché quella parete Si doveva rompere E mi è piaciuto Molto Come abbiamo Votuto rischiare Pure Ti ho detto Per rimediare A qualcosa Che noi Funzioni In passato Non sto qua A citarla Hanno voluto Lasciare il pubblico Ancora di più A bocca aperta Dopo quello Che già tanto Avevano raccontato Prima E mi è piaciuto Mi è piaciuto Follemente Anche se Omega Ha rischiato Tanto Ragazzi Non so chi Non so Ma pure Moxley Che è sempre Sul bump Sì Però Moxley È stato proprio Un pochino Più protetto Omega Non so Chi deve ringraziare Non lo so Lui è tanto bravo Però qua Diciamo che gli ha detto Anche un po' culo Ecco E poi Dal momento in cui Si è sfondata La grabbia È stato Un susseguirsi Di chicche No Cioè Arrivano questi Addetti A vedere Se l'uno E l'altro Stavano bene Che ci avevano in mano Stavetti Un cacciapia Ma tu dimmi Si è sfondata Una gabbia Che cazzo Ci devi fare Con il cacciavite La riavviti No Ma ovviamente Erano pronti A ripararla Questa gabbia Cacciavite Che è stato preso Da Mox Per riallacciarsi Sempre A quello Che ci hanno raccontato Di puntata In puntata Fino ad arrivare A questo A questo Stilchage Con questo cacciavite Che è stato Molto importante Nei vari segmenti Quello Ma arriva proprio Col cacciavite Io vorrei Doveva fare Un cacciavite Quello Vorrei rimontare La gabbia Io non lo so Guarda E da lì Poi È stato Un attimo È stato Un attimo Però è descritto Secondo me Meglio ancora Di quanto previsto Da noi Qualche mese Qualche settimana C'è questo John Mox Che si trova Con Kenny Omega Al centro Del ring Mox Ovviamente Armato Di questo Cacciavite Fa per puntarlo Contro Kenny Omega Ma Don Callis Sale sul quadrato Glielo strappa Gli lo strappa Dalla mano Dalla mano E lì Omega ne approfitta In modo Incredibile In modo Incredibile È stato Un fulmine Connettere Questa V-Trigger E One Wing Istantaneo Aveva colto Questa super opportunità Regalata Gli su Prattaccio Al centro Da Don Callis Che durante Il pinfall Se sa Che cazzo Che pia No se sa bene Invece L'ha fatto davvero L'avristo Dal giorno zero Appena partita Sto storyline Don Callis Durante il pinfall Della One Wing Al conto di uno Va a colpire Sulla fronte Kenny Omega Tradendolo Lo ha tradito Brutamente Col caccia La vita Prima me lo salvi E poi me lo infilzi Ma Ma non Ma tu sei proprio Un uomo di merda Tu sei proprio La merda più grossa Che può esistere Tra l'altro Fischiatissimo In questo mondo Fischiatissimo Don Callis Sei la merda più grande Che può esistere In questo mondo I fischi Neri merdi tutti Tu devi avere paura E' stato anche insultato Malamente Perché lui Un certo è risposto Anche a qualcuno Del pubblico Mentre intanto Mox Aveva vinto il match Schienando subito Kenny Omega Dopo il colpo Di caccia Vida inaspettato Ma anche tremendo Perché Omega Si era anche tagliato Don Callis Dopo il 3 Va rispondo a un fan Dice Guarda qui Guarda che mi ha fatto Ma in riferimento Io pensavo fosse diretto A Un po' anche a Mox Invece no Secondo me Don Callis Vuole incolpare Omega Di non esserci stato A proteggerlo Perché Omega Preferì fare Un match Come vale contro Chiedo del vichingo Se non sbaglio O contro un altro Non ricordo bene Però lui Vuole forse incolpare Omega Di non essere stato Con lui in quel momento Dove c'è sto squarcio Che gli è rimasto Un squarcio importante Brian Denelson Al tavolo di commento Se la rideva Compiaciuto Aveva sto sguardo Proprio da bambino Felice Cioè Come se lui Realmente Non sapesse nulla E avesse fatto La reazione più spontanea Del mondo Con questi occhi Lucidi Contento Proprio stava godendo Cioè Era una goduria Nella Nell'espressione Di Brian Così Vera Ma E' bello Che non se la Brian Denelson Dice che non se la Aspettava minimamente Come se Don Callis Alla fine Non è che Abbia di Omega Per raggiungersi a loro L'abbia tradito Per quello che era accaduto Non so dove Voi veniva a parlare Perché poi Don Callis E' scappato via Dall'arena Abbiamo visto il segmento Con Kenny Omega I Bucks Nel backstage Che giustamente Kenny Omega Dice Se non mi posso fidare Di Bucks Non mi posso fidare Della mia famiglia Di chi altro Io posso fidarmi E lo faceva Quasi con le lacrime Agli occhi Dopo essere stato Revastato E Peonia Lì piangeva Adam Dove cazzo sei Vedremo Adam Dove cazzo sei Vedremo Dove sei finito Sparito In un buco nero Proponiti Proponiti Tu non l'hai mai tradito Kenny Omega Finna prova contraria Non l'hai mai tradito Avevi un po' i problemi tuoi Ma non l'hai tradito Proponiti Dove sei finito Vedremo Cosa accadrà Settimana prossima Diciamo che tutto quanto Sta andando benissimo In una situazione dell'It E Blackpool Combat Club Più Don Callis Idolo di Peonia Da oggi Sta bello Detto ciò Spolliciate Commentate Io tanto tempo fa E' uscita la maghetta Don Callis E' tornata Ma non è bella Ma non è bella Spolliciate Commentate Condividete Iscrivetevi ai canali Qui sotto In descrizione Noi link A tutti Ma proprio tutti I canali Di questa ragazza Qui fan di Don Callis Quindi Proprio da lei Peonia De Don Callis La Don Callis Italiana No vabbè E da fine è tutto C'è un cacciavide Che è Che è sweet Grazie.